Natale fa rima con solidarietà, l'associazione Piacenza in Blu, che supporta circa 30 famiglie con ragazzi autistici, torna a proporre per il periodo festivo gli anolini prodotti dal laboratorio Pierino, in vendita a scopo benefico. Un piccolo gesto per partecipare virtualmente a un grande pranzo della tradizione, aiutando i ragazzi dell'associazione. Potete acquistarli mandando una mail a piacenzainblu.com, sono forniti da prodotto Pierino e il ricavato degli anolini saranno utilizzati per sostenere le attività e i progetti laboratoriali di Piacenza in Blu. Il ritiro degli anolini è fissato nella sede associativa in via Molinari a Piacenza nella giornata di domenica 17 dicembre. Non solo anolini, quest'anno Piacenza in Blu propone per la prima volta anche il panettone solidale. Quest'anno abbiamo aggiunto anche un aspetto dolce, più goloso, il panettone sempre fornito da prodotti Pierino, un panettone di 2 kg ed è, si trova in 23 postazioni di Piacenza e provincia, bar, tabaccherie, gelaterie e sarà oggetto di una lotteria. E quindi comprando un biglietto da 2 euro potrete vincere un panettone da 2 kg squisito, mi sento di dire, e aiutare e sostenere i nostri progetti. Per conoscere l'elenco degli esercizi aderenti occorre contattare l'associazione.